Allora, benvenuti ragazzi, il video di oggi sarà di un gioco che l'ho fatto anche nel video precedente l'altra volta, sopra quella è la parte 1, e ora facciamo la parte 2. Un brodo c'è pronto? Non è buono come quello fatto in casa? Prova il mio brodo Stan! Lo facciamo buono come lo faresti tu, ma più grande, 100% naturali, senza conservanti né glutamato aggiunto, buono come fatto in casa, sta in famiglia. Basta, non lo sapete. Allora... Andiamo a prendere con la pistola, dai sopra, Luca! Ehi, su perché se ne scappo quel coglione, il porco da me è morto! Dove te scappo? Vieni qua e ti uccidi! E muovi! Sì! Sendo con uno sca... con uno scavo rubo! Ahahahah! E' forte che ne chiedi comunque! Con uno scavo! Ma qua se ne scappo! Ecco qua c'è la pistola, vieni qua da strutture! Euuu! stumente porca vacca ma vedete stupi la miseria o quando cazzo di legge a fare o o o non è scelto come la scena di capa corsa it eccolo sarà andata sti stupidi e poco una mozza e scappano sempre un giro sempre però come devo fare riusciti avanti i colloni avanti ecco qua e si muo a morire tutti quanti avanti so mica voglio sentire sempre e pur conto da vera senta mai capito bu voglio avvicinare amici da oggi di casa spalle bucate ma c'è questo quadri schiva serbico io mi rimango qua fino a quando venite anzi anzi da là che ti devo spagare gara davvero colpo eccolo qua vieni che ti faccio a pezzi la quale muove tutto già visato se il coraggio di tv che risparmio rispetto al video precedente non è tanto buono che la mia dice non è forte qua sembra che solo in questa cuspe non sta se è in mezzo a un labirinto qua e stiamo in mezzo a un labirinto che poi c'è uno che mi viene visto lì chi è questo qua quello non capisco di questo video di questo diciamo che divertenza ah ma sono ballato se sto a mettere i occhi da quest'altra parte attraverso la spaga guerra se gli schioma se mi ha fatto perdere la vita mi ha fatto perdere allora la pistola è qua giù ho giusto questo qua ma non te la fastidio ti devo prenderla la mazza la pistola poi c'ho la mazza scappi di qualsiasi cappella della vita eh no devo là ma c'è me stessi posto mettendo la pistola non è mai porca vacca no 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 o no 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 ragazzi non mi sa che però molto se non riesco a sconfiggere quello giudiamo il video e ciao ciao fammi prendere la pistola così se ce l'ho già o sei a posto invece da qua eh no 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 sì ce l'ho fatta ho spagato quella che ha schierato i corpi ce l'ho fatta no 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 sì comunque ragazzi mi sa che faccio no questo va bene questa ultima volta poi lo chiudi il video veramente ho messo questo mo mi sto sto facendo ancora più lungo perché mi piacciono mi sono uomo però si usi noi o Raga, no, ho proprio la vita, no! Ma va a fan cuore. Allora ragazzi, questo è il video di oggi. Se vi è piaciuto mettete il like in descrizione e ci vediamo come sempre al prossimo video. Grazie.